buongiorno ragazzi buongiorno a tutti inderisti e non buongiorno dall'olanda e allora oggi è il giorno del footy footy football del football quello vero è il giorno del derby ragazzi derby di milano debita la madunina milana che gioca in casa quindi con un bel pubblico noi avremmo un sesto circa del pubblico che avrà il milan sarà quasi tutta curva i ragazzi stanno preparando una coreografia sappiamo che la coreografia del milan sarà una sorta di sfotto per noi dobbiamo pensare al campo dobbiamo pensare al campo perché questa è una partita fondamentale fondamentale ragazzi per tutti noi certo i punti contano e non contano arrivare a più 4 a meno 2 in questo momento non è importante non è importante il la posizione in classifica alla quinta la sesta la quarta la settima l'ottava giornata ma è un segnale è un segnale forte andare lì andare lì siamo siamo anche noi a milano però giocare contro il milan è darti una bella lezione soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso con i festeggiamenti che per esempio c'è ciala che è avvelenato ciala è avvelenato certo gli hanno dato del figlio di insomma non credo che che possa essere contento di questo dopo averci giocato pure insieme quindi dobbiamo ripartire diciamo pensando a quello pensando a come è finito il campionato anche per noi con le lacrime con tutti i ragazzi allo stadio e non solo pure dal divano di casa che applaudivano e piangevano con i ragazzi quindi piangevamo con i ragazzi quindi ragazzi sosteniamo 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 fino all'inverosimile i ragazzi il mister a gerbi ci sarà sarà in panchina spero che non venga fischiato perché chiunque indossa la nostra casa a china per noi entra in famiglia entra in casa e questo è importante che si sappia che sia un calciatore che sia un amministratore che sia una proprietà chiunque entra nella famiglia inter diventa un membro della nostra famiglia e va sostenuto può anche fare delle cavolate e li sarà criticato ma sempre con un certo tipo di educazione e con l'amore che sia per i propri parenti perché l'inter è una famiglia ragazzi chi è il vero interista veramente tifoso interista capisce che l'inter è una famiglia che resta per sempre e dal 1908 ad oggi l'inter c'è le società cambiano i calciatori vanno via giusto ma l'inter resta e chi ama l'inter chi ti fa l'inter la supporta in ogni caso non la critica a prescindere che è diverso le critiche servono fanno bene ma devono essere critiche costruttive critiche sensate parlare di qualcosa che esiste perché ultimamente ancora ultimamente da un anno come i pifferai e gli arancimini e gli aramcini scusate che continuano a criticare a prescindere la società oltretutto ci sono anche quelli che offendono con epiteti razziali addirittura il cinese il cagari insomma queste cose qui che veramente stanno fuori dal mondo abbiamo questa società ce la teniamo pensiamo al campo oggi una giornata importantissima per noi avanti ragazzi probabilmente ci sarà darmian sulla sinistra scelte del mister vedremo io non lo so forse go senza ancora non è in condizione sicuramente quindi ragazzi io sarò al lavoro purtroppo cercherò di seguirla da qui come posso un orario del cavolo questo alle 6 di pomeriggio un derby veramente poi c'è pure caldo speriamo vada bene dai ragazzi amiamola raga forza inter per stasera